Buongiorno ragazzi, realizziamo oggi nuovamente la perpendicolare ad un segmento in suo estremo realizzandolo però con un secondo metodo. Secondo metodo perché? Perché l'abbiamo già vista in precedenza, sfruttando il prolungamento del segmento stesso. Questa volta invece non sfrutteremo questa caratteristica. Allora cosa facciamo? Prima di tutto andiamo a disegnare un segmento AB della lunghezza desiderata, nel caso specifico io continuo a farlo di 5 cm. A questo punto con apertura di compasso a piacere, sempre attorno ai 2-3 cm, disegniamo un arco di circonferenza, quindi l'inizio molto simile al disegno precedente che vedete qui di lato. La cosa importante è non muovere la dimensione, la ampiezza dell'apertura del compasso questa volta, perché da questo punto 1 adesso andremo a disegnare un primo arco sulla circonferenza che chiameremo punto 2. E dal punto 2 andremo a disegnare un secondo arco sulla circonferenza, quindi sono in sequenza, che sarà il punto 3. Sempre con la stessa apertura puntiamo in 2 di nuovo e disegniamo un archetto in alto e puntiamo in 3 e disegniamo un secondo archetto che incontra il primo nel punto 4. Questa costruzione più veloce ci obbliga però a mantenere costante l'apertura del compasso e quindi consigliabile a chi ha un balaustrone e non un compasso classico. Se adesso uniamo 4 con A, otterremo la perpendicolare al segmento, come vedete se allineo questa squadretta all'allineano, nel punto A. Stessa cosa è fattibile nel punto B. Come al solito aspetto i vostri disegni, come vedete sono disegni costruzioni elementari molto veloci per le quali però vi chiedo massima attenzione massima cura. Un saluto e vi aspetto alla prossima lezione.